I matrimoni in chiesa diminuiscono e così la politica interviene. C'è stata una proposta della Lega che in questi giorni ha presentato un disegno di legge in cui prevede un bonus con detrazioni fino al 20% per tutte le spese che riguardano il matrimonio. Naturalmente questo bonus è riservato a coppie con meno di 35 anni ma solo ed esclusivamente se il matrimonio viene celebrato in chiesa con rito religioso. La proposta è firmata da una cinquantina di parlamentari leghisti e il primo fermatario di questa proposta è Domenico Furgioele, deputato appunto del carroccio. I criteri che sono stati adottati per ottenere il bonus non si limitano soltanto alla giovanità e al rito religioso ma ce ne sono altre per esempio un ISEE non superiore ai 23 mila euro e il bonus è erogabile se la coppia sceglie di sposarsi fuori dall'Italia o se entrambi i futuri coniugi non possiedono la cittadinanza italiana da almeno 10 anni. Questa proposta di legge prevede detrazioni fino al 20% naturalmente per l'acquisto degli abiti degli sposi, il ristorante, le bomboniere, i compensi per i perrucchieri, i truccatori, i fotografi e anche addirittura la decorazione della chiesa. In questo modo tutto quanto viene pagato dagli sposi poi viene detratto fino a 20 mila euro e naturalmente viene ripartito questo in cinque quote di pari importo. Un altro criterio per ottenere il bonus è che le spese siano riportate correttamente nella dichiarazione dei redditi. Insomma un salto di qualità notevole come hanno spiegato alcuni deputati della Lega e la proposta secondo loro nasce da un dato statistico. Negli ultimi anni sono stati sempre meno i matrimoni celebrati in chiesa mentre quelli con il rito civile sono il 46,9% e quindi molto spesso si sceglie il rito civile al posto di quello religioso per risparmiare le spese e quindi secondo la Lega bisogna agevolare queste giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso. Naturalmente su questo la chiesa non si espressa però c'è da dire che molti giovani hanno pensato che questa riduzione può agevolare il loro sogno d'amore. Insomma oggi per convincere le persone a sposarsi ci vogliono anche le agevolazioni fiscali. C'è qualcosa che non torna perché se Bauman ci ricordava quando è liquido l'amore c'è da dire che le spese però per cercare di contrattualizzare questo amore invece sono molto solide. Insomma anche se i matrimoni durano meno e i divorzi aumentano c'è chi vuole invece agevolare i matrimoni religiosi magari con qualche bonus. Insomma questo bonus ci mancava e adesso è arrivato.